eccoci ben ritrovati cari amici di calciomercato punto it nuovo contenuto di Tiamo Calciomercato Maurizio Russo insieme al sottoscritto ciao Mauri un saluto anche da parte mia Carlo allora contenuto dedicato al Milan c'è tanto di cui parlare c'è tanto anche di cui ascoltare perché noi partiamo il contenuto mostrando quelle che sono state le parole di ieri di Fonseca dopo la vittoria contro la Stella Rossa sono state parole molto polemiche che hanno dato vita ad altre tante polemiche le mostriamo e poi andiamo appunto a fare il punto della situazione passatemi il gioco di parole eccolo qua Fonseca ascoltiamo molto diretto e schietto tra me e la squadra come si può venire fuori da questa strategia da questa storia c'è arrivare al muro contro muro usare una strategia diversa più bastone più carota come come la situazione adesso cosa intenzione di fare bene io mai mi fermerò come si diceva giusto mi fermerò io faccio faccio ho sempre la mia coscienza molto 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 tranquilla perché io sto facendo tutto per il Milan non lo so ma se ho bisogno di portare i ragazzi di Milan futuro o di primavera farò non c'è problema nessuno per me non c'è problema nessuno queste appunto erano le parole di Fonseca ieri dopo dopo la partita con la stella rossa e Maurizio me l'abbiamo fatto sentire tutte Carlo poi aggiunge anche che insomma qui già ha detto che lui ha la coscienza sporca e lui sta dando il cento per cento per il Milan non ha una coscienza che ha la coscienza pulita si lui ha la coscienza pulita no no ha detto coscienza sporca ha detto coscienza sporca perdonatemi no lui ha la coscienza pulita che sta dando il cento per cento per il Milan e si chiede se anche i calciatori stanno facendo lo stesso non fa nomi ma noi con il nostro inviato ringraziamo anche per questo contributo video Martin Sartorio ci abbiamo lavorato un po' insomma non è difficile capire quali siano i giocatori nel mirino di di Fonseca queste dichiarazioni in pratica lui eh sposta la responsabilità scarica la responsabilità proprio sui calciatori del Milan eh se vuoi Carlo io comincio a fare eh i nomi eh c'è un ieri avevo letto anche di un Calabria no che abbiamo il pezzo di Martin su calciomercato.it per chi vuole leggerlo nello nello specifico però eh non so se puoi far mostrare il il pezzo o la grafica sul sito calciomercato.it eccoci qua intanto anche pezzo di Martin Sartorio il retroscena su Calabria hm ti anticipo subito Carlo è legato alla sostituzione perché eh Calabria viene sostituito eh fa il giro intorno all'area tecnica per evitare diciamo l'allenatore Fonseca prova ad avvicinarsi per stringergli la mano e Calabria di fatto lo ignora quindi eh cosa molto brutta eh già sto brutta perché lui lo vedete anche nella foto lui ha la fascia da carrile ragazzi questo non è un poi nello spogliatoio puoi avere tutti faccia a faccia che che vuoi ma tu sai che in quel momento ti vede tutto il pubblico la radio e tutte le televisioni poi adesso uno eh volesse essere cattivo fino in fondo eh questi sono comportamenti sempre da condannare perché poi come dicevi dovrebbero rimanere all'interno dello spogliatoio pubblicamente dovrebbe essere tutto rose e fiori i panni si pulisca e si eh si lavano eccetera eccetera poi un conto eh se lo fanno non lo so Teo Hernandez, Leao che che hanno un peso. No, no, non sono d'accordo. Ah no io sono io sì io sono d'accordo con me stesso quando dico questa cosa perché non è stato nulla nel corso di questi ultimi due anni secondo me a maggior ragione dovresti tenere un comportamento esemplare da capitano non sei neanche un calciatore genio e sregolatezza in questo momento sei solo sregolatezza quindi siccome il genio non sei comportati da persona normale questo è il mio discorso va bene poi poi lasciamo nei commenti a a chi ci segue eh diteci se siete dalla parte di di l'uscito dalla mia e non è che non è più grave no no cioè se non è che un giotto cioè se lo fa Messi è grave se lo fa Calabria è grave punto eh poi l'aggravante per me è la fascia da capitano non il fatto che uno sia forte o sia scarso secondo me eh però sì no è vero magari nasce il dibattito tra i commenti eh cioè chi è d'accordo con me chi è d'accordo con te per me se sei un calciatore normalissimo a maggior ragione ti devi comportare come un calciatore normalissimo senza alzare la testa questa era la grafica che mi chiedevi poco fa bersaglio Milan cioè eh questo questo Fonseca pronto alla caccia nel milione ci sono quattro quattro calciatori eh e anche qui ci sono calciatori appunto forti fortissimi calciatori normali calciatori che stanno deludendo di parola a te caro caro Maurizio spiega nel merino abbiamo messo Calabria non solo per la prestazione e la sostituzione di ieri ma già contro lo Slovan Bratislava eh Fonseca non aveva fatto nomi ma aveva fatto capire che era stato molto deluso dalla prestazione del terzino e capiano del Milan che di fatto ormai ha perso anche il posto titolare in favore di Emerson Royal insomma lo sta facendo giocare nelle partite sulla carta più facili e lui non sta sfruttando queste occasioni per per rendere al meglio nel merino c'è anche Teo Hernandez perché credo da stia facendo la sua peggioro stagione da quando è al Milan è spesso eh abulico eh si è reso spesso protagonista di episodi brutti il cooling break di eh Lazio Milan c'è Teo Hernandez con con Leao eh il caso dei rigori in Fiorentina Milan è Teo che si prende il pallone e decide di battere lui il rigore in più ripeto sta avendo un rendimento al di sotto delle aspettative e quindi ci sta che sia uno dei giocatori nel mirino un altro è l'Hotus Cic l'anno scorso era titolare inamovibile con Pioli quest'anno di fatto è diventato una riserva con con Fonseca quindi eh anche lui è spesso sbogliato nei comportamenti sia eh in allenamento che in partita e questo Fonseca eh lo ha notato abbiamo messo anche Okafor eh voi direte perché scusa ieri era ehm indisponibile era infortunato è proprio questo 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 infortunio diciamo che Fonseca si aspettava che avrebbe stretto i denti eh per giocare invece diciamo ha messo tra virgolette la scusa dell'infortunio per chiamarsi fuori non è piaciuto questo atteggiamento cioè lui vuole che i giocatori diano il cento per cento per il Milan che siano disposti anche a giocare sul sul dolore pur di eh dare il massimo e invece c'è qualcuno insomma che non lo sta facendo nel mirino non lo abbiamo messo ma vorrei citare anche Ciuqueze che eh aveva fatto uno splendido precampionato poi appena visto che non era più titolare eh è calato molto lo stesso Tomori che ecco anche lui protagonista lì del rigore di Fiorentina eh Milan ma anche di altri eh episodi non bellissimi quindi eh ora Carlo mh secondo me la domanda da farsi è da quale parte si schiererà la società Milan perché le mh parole di eh Fonseca sono gravissime sono quasi parole che ti aspetti dopo un'eliminazione no invece con la vittoria di ieri Milan adesso è eh addirittura vicino alla qualificazione è casuale però è Maurizio cioè se se tu appunto le fai dopo una vittoria sono d'accordo amore e danno anche più forza all'allenatore no perché tu lo lo dici dopo l'eliminazione dalla Champions un girone fatto in modo disastroso e allora può sembrare un alibi se tu lo dici dopo quattro vittorie consecutive in Europa per carità contro non avversarie clamorose a parte la trasferta eh riesci ad avere un tono più deciso più perentorio di enti più credibile anche agli occhi assolutamente non riesci non sei uno scarica responsabilità ma sei uno appunto che sta alzando la voce nel momento giusto assolutamente d'accordo quindi Milan prenderà le parti di Fonseca o dei calciatori perché Fonseca dopo Atalanta Milan se l'è presa con l'arbitro Scaroni presidente del Milan non si è schierato con Fonseca perché ha detto che gli arbitri hanno sempre ragione quindi eh non ci stava lamentarsi per il gola di decaterale è chiaro che se ti schieri con Fonseca eh gli dai maggiore peso nello spogliatoio e metti i giocatori davvero davanti alle proprie responsabilità se ti schieri con i giocatori di fatto stai esonerando Fonseca eh sì perché adesso veramente la frattura sembra insanabile allora mostro eh a proposito di Milan perché qui parliamo di un ex Milan un sondaggio che abbiamo pubblicato sul profilo X di calciomercato.it relativo appunto tonali voglia di ritorno in Serie A dove lo vedreste meglio queste sono le votazioni dei nostri follower o di chi ha partecipato comunque al sondaggio Milan trentasette virgola uno per cento pareggio assoluto con la punto uno venticinque virgola sette la candidatura dell'Inter che comunque non è neanche così staccata eh diciamo che tonali farebbe comodo a qualsiasi squadra forse forse l'Inter un po' meno perché c'è una bella abbondanza lì a centrocampo quindi sicuramente farebbe molto più comodo alle due che che sono state maggiormente votate no? Milano 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 diciamo che mh abbiamo potuto proporre questo sondaggio partendo un po' anche eh dalle parole dell'agente riso insomma e anche dalla voglia espressa da tonali di tornare in Serie A no? Quindi lui è quel giocatore che davvero si prenderebbe le responsabilità sia al Milan sia dovunque eh dovesse andare eh mi aspettavo una vittoria più netta del Milan però è vero che la Juventus nonostante la scorsa estate abbia speso tantissimo per rinforzare il centrocampo insomma tra Douglas Lewis che avessi messo dieci opzioni poi i tifosi delle rispettive squadre avrebbero votato la propria squadra perché poi tonali penso che sia un calciatore che tutti vorrebbero con sé assolutamente e sarebbe titolare anche anche nell'Inter è vero tu dicevi forse ne ha meno bisogno ma secondo me sarebbe titolare anche nell'Inter sì probabilmente anzi penso sicuramente sì anche se Mkhitaryan è un calciatore che mi fa impazzire però anche lì c'è un discorso anagrafico detto ciò chiudiamo il contenuto c'era veramente tanto di cui discutere il fronte Milan ha acceso veramente le polemiche in modo esasperato quasi dopo la vittoria in Champions con la Stella Rossa Maurizio grazie salutiamo tutti i social attivate le notifiche di YouTube anche oggi tre contenuti ospiti speciali vi spieghiamo anche il sorteggio in vista dei prossimi mondiali sperando che l'Italia finalmente torni a partecipare un abbraccio ciao a tutti alla prossima ciao ragazzi